Questo è un dialogo tratto dal primo atto di Ti ho sposato per allegria, un dialogo tra Giuliana e Pietro che si interrogano sul senso del loro sano insieme. Inizia Giuliana Trovo che sei una persona molto leggera, sposandomi hai dato prova di una gran leggerezza. Io non sono per niente leggero, io sono uno che sa sempre quello che fa. Io invece non so mai quello che faccio, prendo una cantonata dopo l'altra, del resto come fai a dire che tu sai sempre quello che fai? Fino adesso non hai fatto niente, niente di importante voglio dire, sposarti è stata la prima cosa importante della tua vita.